ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video giochiamo un'altra partita a 10 minuti giochiamo contro casellina che ha poco più di 2000 punti e gioca i 4 e 5 e questa volta proviamo il gambetto di re a grandissima richiesta e il nero mangia con e per f4 cavallerescamente perché purtroppo ultimamente tanti tanti giocatori hanno iniziato a giocare di 5 ok di 6 questa è una mossa buona penso e ok la mia teoria finisce qui nel senso dopo di 6 non ho idea di quale sia la mossa giusta se sia d4 alfiorec4 ma un cavallo c3 queste sono le mosse che il bianco dovrebbe considerare secondo me facciamo alfiorec4 e ci prepariamo ad arroccare e h6 idea difendere il pedone il pedone in più con g5 ok forse h6 non è non è neanche necessaria no g5 lo può fare comunque perché c'è la donna quindi mi dà forse mi dà un tempo extra ma potrebbe essere anche una cagata quella che sto dicendo ok h6 giochiamo d4 qua il bianco deve giocare per lo sviluppo e per il centro perché è proprio questo lo spirito del gambetto di re sviluppare tutti i pezzi e sperare di avere di riuscire a trovare un'iniziativa decente in cambio del pedone tra l'altro è un pedone che limita molto bene il mio alfiere e se il bianco riesce a recuperare il pedone f4 non è niente male cavallo f6 il nero cerca di recuperare qualche mossa di sviluppo ma qua c'è qualche mossa concreta da trovare altrimenti qua non si vede e5 non non ci credo troppo qua il bianco il nero può mangiare e mangiare di pedone sarebbe un disastro cambiare le donne secondo me quindi e5 presa cavallo per arrocco il nero ha una posizione del tutto dignitosa quindi la mossa sulla quale sono più orientato è g3 e magari magari è una mossa di merda però libera soprattutto il mio alfiere e la mia torre devono essere liberati quindi a costo di indebolirmi enormemente il re gioco gioco g3 alfiere c8 alfiere c8 in h3 qua posso anche valutare e sacrificare già la qualità cambio di recuperare il pedone e altri tempi però non vedo magari su torre f2 vuole giocare g4 e poi f3 quindi si dai sacrifichiamo un po' di roba dai ma chi se ne prega sacrifichiamo sta torre alfiere per f1 donna per f1 penso sia la meno peggio e in cambio della qualità abbiamo un bel centro cavallo h4 voglio giocare cavallo f5 tanta tanta tattica qui su cavallo per e4 cavallo f5 non lo so non riuscirò mai a calcolare tutte ste robe non giocherò mai in torneo il gambetto di re questo poco mi assicuro ma ok questa polizia inizia a piacermi arrocco vediamo se c'è se c'è della magia qua può essere arrocco ok arrocco però è strana perché arroccare qua allora cosa vuole fare lui? lui adesso sta minacciando cavallo per e4 perché ora su cavallo f5 ok cavallo per e4 la minaccia è di attaccare il cavallo questo cavallo qua sospeso quindi ok le mie alternative sono o cavallo f5 o cavallo g6 sfruttando questa inchiodatura qua cavallo g6 è un po' inutile perché torre 8 e non si vede bene cosa fare quindi cavallo f5 andiamo anche magari a eliminare il principale difensore del re del nero quindi cavallo f5 mi aspetto qua cosa mi aspetto qua ok cavallo c6 è una mossa che mi aspettavo una tra cavallo c6 e cavallo d7 giusto per finire lo sviluppo cavallo c6 non sta minacciando niente quindi posso iniziare a pensare a cosa fare di effettivo per giustificare il fatto che ho una qualità vorrei coinvolgere anche questa qua che sta dormendo per esempio alfiere e3 una roba così non so questo sarebbe il sogno se mi dessero 4 mosse probabilmente giocherai in questo modo qua però non avrò mai il tempo di fare tutta sta roba quindi ok alfiere e3 sembra però una mossa utile quindi farò questa e vediamo perché ogni sua mossa tipo torre 8 le sue mosse hanno dei lati negativi la torre n8 lascia f7 un po' un po' in preda a qualche a qualche tatticismo ok donna d7 va bene donna d7 ora minaccia cavallo per e4 scalzando il difensore di f5 quindi bisogna stare un po' attenti donna d7 qua bisogna sommergere l'avversario di trucchi altrimenti la vedo malino d5 qua potrebbe essere ok cavallo per e4 comunque cavallo per g7 cavallo per c3 di per c6 si capisce niente si capisce niente qua queste posizioni sono sono ottime per i principianti perché sono i principianti sono costretti a dover calcolare tanto quindi allenano molto bene il calcolo ma per i giocatori un po' esperti queste posizioni sono il peggio perché qua non non vince non vince il giocatore il giocatore più con più comprensione ma vince il giocatore che ha più culo speriamo di avere più culo qua non so d5 è la mossa che mi viene ma probabilmente è una cagata perché mi blocca l'alfiere l'alfiere dovrà essere riciclato in d3 dopo la cosa che mi piace di d5 è che mi fa spazio all'alfiere in d4 quindi una volta che elimino l'alfiere in g7 l'alfiere in d4 qua darà tantissime noia al nero qua d5 la gioco sperando che il cavallo per e4 non vada bene ok chi vive sperando no non finirò il proverbio però d5 magari su cavallo e7 cavallo per g7 re per g7 alfiere in d4 qua mi sento abbastanza bene in realtà ed è ed è un po' la speranza che ho che che sta roba finisca in questo modo alternative dai iniziamo a calcolare adesso cavallo per e4 ma cavallo per e4 cos'è che volevo vedere ah si cavallo per g7 comunque su re per g7 ora cavallo per e4 un pezzo in più quindi contento quindi cavallo per g7 cavallo per c3 e ora ho questa mossa intermedia molto forte secondo me mangio un cavallo attaccando la donna quindi non è che ci sono tante tante storie qua tutti abbiamo pezzi in presa però io sono quello che ha mangiato il pezzo per primo quindi male che va la posizione dovrebbe essere pari di materiale quindi cavallo e7 cavallo e7 è la mossa più naturale ma è quella che in cui speravo perché dopo cavallo per g7 alfiere d4 l'alfiere vedete che la struttura si è spostata sulle case chiare quindi l'alfiere forte diventa l'alfiere delle case scure e qua il nero secondo me inizia ad avere dei problemi seri perché il suo re è più esposto del mio soprattutto lungo questa diagonale il re non può non può spostarsi perché il cavallo rimarrebbe sospeso tutto questo a tutto questo c'è da aggiungere i5 i5 è una minaccia fortissima qui i5 la minaccia è non so mangi mangi sposti il cavallo e6 e perdi la donna l'alfiere in d4 diventa la bestia vediamo se c'è un modo per scalzarlo ok re g6 c5 era interessante ma non penso sia sufficiente re g6 questa è un'idea interessante non penso spero che questa non sia comunque sufficiente per esempio f5 il re torna qui obbligata l'effetto che ha ottenuto è che e5 diventa meno forte quindi questo potrebbe essere potrebbe essere l'idea re g6 istiga un po' anche a a cambiare questa questa diagonale con l'alfiere sembra che il bianco abbia un'iniziativa molto forte molto 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 ok probabilmente c'è di meglio ma non voglio perdere troppo tempo l'alfiere di 3 mi sembra buona anche perché dopo di 5 come avevamo detto prima l'alfiere in c4 non fa più nulla quindi lo ricicliamo di qua che renda e5 molto più forte quindi ok vediamo calcoliamo una mossa di cavallo e5 scacco è veramente manda in crisi il il re del del nero un altro pezzo che sta facendo relativamente poco è la donna quindi questo sarebbe sarebbe un piano un piano buono però due tempi sono sono tanti in questa posizione probabilmente probabilmente la posizione è già vinta per me non so bene dove abbia sbagliato lui forse forse donna d7 non va bene dopo vedremo le analisi perché questa è una partita molto molto complicata e e quindi ci sta anche per il mio avversario da così chiaro cosa fare cavallo f5 ok dopo cavallo f5 è chiaro che che il bianco vince ok la più stupida che mi viene in mente è mangiare il cavallo e su re g7 insistere con l'inchiodatura con cavallo e4 e ora la posizione del bianco la posizione del nero crolla definitivamente dopo cavallo cavallo e4 perderà un altro pezzo quindi avrò addirittura tre pezzi in cambio di una torre e continuerò ad avere l'iniziativa quindi finisce tutto qua ok c5 ora posso fare anche cavallo per f6 ok ma facciamo anche questa presa intermedia qui per non avere problemi dopo di per c6 il problema il problema del cavallo non è un problema che ha risolto in nessun modo quindi ok il nero probabilmente ora abbandonerà ah donna per f5 perché ok non si è ben capito perché fare c5 e non fare subito questa però la posizione rimane rimane di netto vantaggio cavallo per f6 donna per f6 ok posso mangiarmi la donna subito ma non capisco perché perché non abbandoni qua donna f2 tutto tutto finito infatti lui si arrende andiamo andiamo a analizzare velocemente questa partita vediamo ok d6 sono sicuro che sia una delle mosse delle mosse giuste ok c'è g5 qua d5 ma d6 è ottima alfiere c4 questa è chess.com ci insegna che è la difesa fischer con alfiere c4 ok ah a casa è la mossa principale infatti figura di merda non lo sapevo d4 è ottima g5 va benissimo cavallo c3 e non è tanto giocata qua la più giocata è arrocco però vabbè iniziamo a ok però cavallo c3 è la prima mossa del motore cavallo c3 alfiere g7 vedete il motore qua da quasi meno 1 al nero quindi ok non c'è molto da dire il nero sta il bianco non ha abbastanza compenso per il pedone ha gioco corretto ma il gioco corretto qua è difficile da 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 ottenere col col nero cavallo f6 e questa è è una delle mosse che non piace al motore ma avrei dovuto giocare 5 per sfruttare l'errore cosa che non ho fatto perché ho giocato g3 che è una mossa imbarazzante la mossa imbarazzante però vedete il vantaggio del nero è molto grande però ok l'unica mossa che dà grande vantaggio è f per g3 h per g3 ma adesso questo questo è il modo è il modo di giocare coerente col bianco e vabbè la posizione non è un gran che ma amen alfiere h3 e qua esatto qua bisogna cogliere al volo la possibilità di sacrificare la qualità dopo g per f4 vedete che ok facciamo pensare un altro po' il computer perché secondo me vedete che non è abbastanza indeciso anche lui su questa posizione vediamo meno 1 e 20 ok mi aspettavo qualcosa qualcosa di di meno alfiere per f1 donna per f1 aaa ecco no ok g4 g4 la migliore è quello che ha fatto lui g4 lui sta mettendo tutte le mosse migliori e su cavallo h4 esatto cavallo per cavallo per e4 che è la mossa è la mossa che mi spaventava di più in partita però ok qua è un bel delirio giocare cavallo per e4 perché dopo cavallo f5 bisogna vedere varianti molto lunghe cavallo per c3 cavallo per g7 scacco re f8 valutare questa posizione è veramente veramente complicato cavallo f5 il cavallo torna in e4 ma entrambi i re sono a campi non è non è troppo umano giocare in questo modo quindi dopo cavallo h4 arrocco questo è il momento in cui il computer dà vantaggio al bianco quindi il gambetto di re si conferma essere una un'apertura molto speculativa ma cavallo f5 più 1.50 addirittura cavallo c6 ancora una volta qua non ho avuto la 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 sensibilità di giocare e5 qua per e3 mi piace comunque dà comunque un un margine al bianco che adesso crescerà un po' ok infatti tanta donna d7 e qua d5 ok quindi già qui secondo me cavallo e7 la mossa che ho giocato da lui è la mossa migliore però non è non è sufficiente per pareggiare il gioco qua il bianco ha troppa troppa iniziativa una volta che l'alfiere arriva in d4 e crea questa inchiudatura non c'è non c'è niente da fare vantaggio del bianco è senza senza troppe senza troppe discussioni re g6 ok f5 qua è la mossa preferita dal computer ma l'alfiere d3 penso sia forte uguale no ah l'alfiere d3 dice che lui ok adesso sta sta rivalutando il computer non capisce niente cioè non capisce assolutamente niente qua cavallo cavallo h5 dice che si continua a combattere però e5 ok come come fa a essere buona sta roba f5 e per f6 scacco cavallo f5 lui dice è così ok ma questo non 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 può andare bene sta roba no il nero è in mezzo alla strada vabbè più 1 e 15 quindi comunque vantaggio a bianco dopo cavallo f5 ok finisce tutto perché il nero perde tutti i pezzi praticamente cavallo e4 e così via ora il vantaggio inizia ad essere enorme più più 11 più 12 più 13 non si capisce niente va bene questo è un assaggio di quello che può diventare il gambetto di re naturalmente sotto sotto i 1500 punti il gambetto di re è un'apertura praticamente vincente per il bianco ma bisogna essere davvero allenati nella tattica e vi consiglio di usare questo gambetto perché porta a posizioni molto sbilanciate in cui entrambi i giocatori sono costretti a calcolare tanto quindi può essere una buona soluzione per allenare la tattica ci vediamo domani per un'altra partita brutta mi raccomando iscrivetevi al canale ciao ragazzi ciao